Ask Monti numero 4, siamo al numero 4, e sì siamo al numero 4, allora andiamo dritti alla prima domanda, Diego. Ciao Marco, grande Marco, una domanda, mio nipote si è laureato in psicologia, volevo regalargli un corso in public speaking. Te fai qualcosa oppure sai consigliarmi qualche organizzazione che secondo te lo fa al top? Grazie Marco, buona giornata. Allora, public speaking è personalmente una passione, ecco, sono un dilettante professionista di public speaking, ovviamente, sono molto molto affascinato dall'argomento. Ti posso dire che su competenze online, www.competenze.online, troverai una guida, non mi ricordo quando esce, forse novembre o dicembre, su public speaking, ma ti do una notizia pazzesca che è che a Natale dovrebbe uscire per me quello che sarà il miglior libro di public speaking in circolazione ed è facile per me dirlo perché lo scrive mia mamma, che è stata la persona che ha portato i public speaking in Italia. Quindi se aspetti fino a Natale e uscirà questo libro, non so ancora quale sarà il titolo, ma è una bomba perché ho visto le prime bozze ed è oggettivamente una figata pazzesca, oppure hai tanti altri libri di public speaking, hai quelli di Carmine Gallo, I segreti delle presentazioni di Steve Jobs, ad esempio, hai Presentation Zen di Gar Reynolds sui supporti audiovisivi, Carmine Gallo ha scritto anche un altro Talk like TED, credo che si chiami, e invece Chris Anderson, che è il curatore di TED, ha scritto un libro di public speaking ispirato alla sua esperienza fatta con il TED, quindi insomma, ne hai alcuni che sono molto carini, molto utili, e poi valuti tu, valuti tu, e valuti tu insomma, e a questo punto quello è un punto di partenza. Poi chiaramente c'è una parte pratica e poi chiaramente ci sono i coach di public speaking e ce n'ha insomma di tutto di più. In bocca al lupo. Davide. Ciao Monti, lavorando nell'ambito artistico ho avuto l'opportunità di lavorare per un altissimo brand di moda e per il suo business. Posso chiederti come potrai sfruttare al meglio questa esperienza per farlo sapere ai miei, diciamo, clienti e a tutto il mondo che ruota intorno al mio business e alla mia attività? Classico esempio di case study questa, Davide. La cosa che farei è preparare una bella schedina riassuntiva con quello che è stato fatto, qual era il problema a risolvere e quali sono state le iniziative che avete messo in piedi e quali sono stati i risultati che avete ottenuto. Lo puoi fare video, può essere un insieme di slide, può essere un misto video slide, scegli tu. Può essere una parte di video dove includi anche il cliente come testimonial, se si presta e ti dà una liberatoria. Una volta che hai quel pezzo di contenuto, hai due posti secondo me interessanti. Un posto è LinkedIn, senz'altro, dove pubblicare il contenuto e poi promuoverlo con le ads di LinkedIn su quel pubblico, ad esempio moda, fashion, direttori marketing di quel settore lì, di modo che metti davanti ai loro occhi una case history che possa essere interessante per loro oppure quel contenuto lo metti all'interno del mondo Facebook, Instagram e lo promuovi sempre lato ADV, quindi con la parte pubblicitaria, su quel pubblico che è interessato al tema specifico. In questo modo hai un contenuto valido davanti agli occhi delle persone che poi decidono e che possono potenzialmente diventare i tuoi clienti. È una cosa facile da fare, ecco. È più da studiare bene la parte di contenuto e se hai il cliente che ti dà anche l'ok e puoi includere anche loro ancora meglio perché ha valore di più, diventano dei testimonial importanti per te. Bocca al lupo, facci sapere Marina. Buongiorno Marco, sono Marina, sono un medico e mi è venuta in mente l'idea di creare dei videoclip dal titolo magari iniziale Dizionario Medichese Italiano in cui vado a spiegare dei termini complessi in modo semplice in pochi secondi. Chiedo a te se questa può sembrarti una idea carina oppure se magari la ripoti una bagianata. Grazie per la tua attenzione. Marina, guarda, regola numero uno per me è che nessuna idea è stupida o intelligente e poi il mercato a valutare se quell'idea funziona o meno. Un'idea che a me sembra una bagianata come dici tu poi magari si rivela una figata cosmica e un'idea che mi sembrava geniale poi fallisce miseramente. A me succede ogni giorno questo. Ogni giorno mi capita di avere idee che penso che spaccheranno tutto e poi invece sono misere oppure valutare male delle idee che invece hanno le ali per volare. Questa è la premessa. Entrando nel merito a me sembra che se tu da oggi partissi su TikTok i congiuttivi non li ho presi però il concetto spero sia valido se tu partissi su TikTok da oggi a fare delle clippine di 15 secondi, 23 secondi con tutti i termini medichesi che non si capisce ma è una mazza spiegati, semplici e simpatici per un pubblico tu diventi il medico di riferimento di TikTok se è quello che ti interessa no? Poi bisogna vedere che cosa ti attira di più. Però io vedo una grande grande necessità su quella piattaforma e vedo casi simili non di medici ma ad esempio nel mondo della fisica, astrofisica, matematica di gente che si mette e spiega dei concetti in pilloline digeribili facilmente e la parte medica potrebbe essere una parte che esplode perché poi si interessa a tutti ma in questo periodo di Covid purtroppo ancora di più. Next, Giorgio. Giorgio? Mi si è piantato tutto? Ma perché? Ogni tanto mi si pianta tutto, non lo so perché. Si è piantato tutto, basta non va più niente. Aspettate, vediamo. Ah no, è saltata la connessione, vedi un po'? Intanto vi trattengo mentre vediamo se la connessione ritorna. Sto cercando di registrare tutte queste belle puntatine. È tornata la connessione? E trovate in archivio AskMonti1, 2, 3, 4. Andate su AskMonti.it se volete mandare un vocale. Giorgio? Maestro Monti, la cosa del mandare un messaggio vocale mi trovo bellissimo e molto interessante. Grande pagina, grande maestro. E basta, non c'è la domanda. Grazie Giorgio. Luca, vediamo Luca cosa dice. Monti, se ripartissi oggi da zero e devi lavorare nel mondo del digital e delle start-up, da dove partiresti? Wow, dritto al punto Luca, mi piacciono queste domande secche così. A me piace molto in generale l'approccio community first. Cioè a me piace l'idea di prendere un verticale specifico, argomento specifico, che ne so, barca a vela. Capire in quel settore quale può essere il mio punto di forza, ok? E poi cercare di creare dei contenuti su quell'argomento, i migliori contenuti che riesco sulla maggiore scala possibile. Questo è un po' il mio approccio. Creare una community. E una volta che ho creato una community, poi, se mi interessa anche la parte di monetizzazione su quel fronte lì, avrò delle iniziative, dei progetti, dei prodotti, dei servizi che mi verranno in mente strada facendo insieme alla mia community che andrò a proporre. Ho alcuni, avrò alcuni che aderiranno a quelle proposte e altri che invece resteranno solamente parte della mia community gratuita. Quindi, a questo punto di vista, mi sono strappato mezzo orecchio perché ho tirato giù questo. Vabbè, mi sono anche fatto male. No, non mi sono fatto così male. E questo è un po' il mio approccio, ecco, Luca, che mi sembra sempre molto stimolante per quello che mi riguarda. Però è faticoso ed è questo il motivo per cui non lo fanno in molti. È faticoso, devi metterti di buzzo buono, essere costante, avere capacità di visione di lungo periodo. Però per me è quello che paga di più, ecco, complessivamente. Questa è un po' la mia attitudine in generale. Gabriele, a prescindere dal settore. Quanto è alto in centimetri Marco Montemarro? Si vede che ho preso domande a caso, eh. Gabriele, sono alto 1,82, credo, 1,83. Speriamo nella prossima. Ciao Tio Monti, volevo chiederti un consiglio riguardo alla pubblicazione di un libro, o meglio, all'autopubblicazione. Ciò che hai fatto con il tuo ultimo libro, e soprattutto per un autore che magari non è conosciuto come te o è sconosciuto in realtà, riguardo i diritti, copyright, piuttosto che se consigli Amazon come piattaforma o che altro consigli e poi come fare nel pratico. Ti ringrazio. Grazie Samuele, grande domanda questa. Non ho una risposta definitiva. Finora ho provato sia la pubblicazione con un editore, e la pubblicazione con un editore la fai se tu hai già una tua community di riferimento. Hai già un pubblico potenziale, interessato a quello che fai, e quando esci con il tuo libercolo sai già che ci sarà qualcuno che lo compra. Uno, due, cento, milo, milione, dipende da quanto è affezionata la tua community a te, interessata e in target, mettiamola così. Quindi questa è la strada numero uno. Il grande editore devi aspettarti una mano sulla parte logistica, distributiva, la libreria, il reso, che è una faticaccia, però non guadagni un picchio. In sostanza, la dico brutta, ma non è un'attività che fai per guadagnare dei soldi, è un'attività che fai per posizionarti, a meno di essere Fabio Volo, se Fabio fa un libro chiaramente ne vende tanti, o Harry Potter, quello è una cosa diversa. Ma il 95% degli autori di fatto non guadagni, anche perché guadagni due lire, magari un 10%, un 15%, o anche chi ti strozzina un 5%, e ti pagano dopo un anno, con un reportino ridicolo, che ti dice, guarda, hai venduto questo, e tu dici, ma me lo fai controllare se è stato veramente così. Ma fidati, ma fidati cosa? Quindi questa è la relazione assurda con gli editori tradizionali che c'è oggi. Editori tradizionali in ascolto, dovreste fare qualche cosa, ecco. Perché inevitabilmente, se no, strada 2, si aprono altre strade. Allora una strada che c'è è l'autopubblicazione con Amazon, che ha il vantaggio di darti un maggiore guadagno, perché è una percentuale più alta di guadagno, che varia poi in base al fatto di vendere un libro solamente in digitale, versione Kindle ad esempio, oppure vendi anche il cartaceo. Il cartaceo Amazon ha un servizio di print on demand, dove stampa il tuo libro, per cui tu non ti devi preoccupare di niente, carichi il tuo file lettino digitale, e Amazon te lo vende, versione online, digitale, oppure te lo vende in cartaceo e lo stampa quando viene ordinato. E questo suona come un buon servizio. Vantaggio e svantaggio? Il vantaggio è una maggiore marginalità, che ti porti a casa, zero sbattimenti, non hai sbattimenti logistici, niente, col print on demand. Svantaggi è che è come avere rapporti con un editore tradizionale, di fatto, non controlli nulla di quello che è il rapporto col cliente, i dati dei clienti non ce li hai tu, non hai la loro mail, non hai la loro carta di credito, cioè non hai niente, tu non sai chi compra a te. Amazon in sostanza compra libri a te e li rivende un altro e ti riconosce poi quelli che sono i tuoi guadagni con una periodicità che non è straordinaria, ma è migliore rispetto a un editore tradizionale che ti paga babbo morto dopo un anno, se ti paga. Quindi questo è, diciamo, la situazione. Una situazione che io ho provato ulteriore è quella di stampare il libro direttamente, fare gli accordi anche con le librerie, per cui andare in libreria tradizionale tramite un distributore e questa è un'altra operazione molto faticosa perché poi hai tutto il problema di gestire i resi, perché se non si vende il tuo libro poi i resi te li devi gestire. Noi abbiamo avuto, ad esempio, sul secondo libro l'arrivo del Covid che ci ha tagliato le gambe clamorosamente, il libro è partito bene, però poi è un po' morto lì e infatti ho regalato anche l'audiolibro, quindi il libro è morto con il Covid, come era giusto che fosse anche, perché insomma al posto di cavalcare il Covid per venderne di più che anzi il tema era anche giusto, la mia scelta è stata quella di dire no, te lo scarichi gratuitamente, ascoltalo gratis e arrivederci, grazie, insomma non voglio lucrare in un momento così ma voglio cercare di dare una mano, questo è stato il mio approccio. Però ha ucciso completamente quello che è stato l'esperimento fino a quel momento, fino a quel momento siamo andati molto bene, ottimo preordine, ottimo tutto, tour di lancio e poi pam, è morto sul nascere, vabbè a volte va così. Ipotesi ulteriore è quella invece di riuscire a uscire da questo da questo ginepraio a mio parere e trovare una soluzione editoriale veramente indipendente al 100% e per me quello che manca oggi sul mercato è la possibilità di vendere direttamente online e nelle librerie ma con un partner che gestisca l'intera logistica in modo super professionale non su 100 pezzi ma potenzialmente se vendi 30.000 50.000 100.000 pezzi quindi devi avere un partner che gestisca come fosse Amazon ma al posto di disintermediarti perché Amazon ti disintermedia dal tuo cliente il cliente resta tuo il rapporto ce l'hai tu direttamente dal tuo cliente ma poi è un partner che paghi mensilmente e lui gestisce la logistica il servizio e tutto quanto ecco ci sono alcuni soggetti che stanno cercando di fare questa operazione c'è Shopify Fulfillment che sta cercando di andare in questa direzione stiamo a vedere riassumendo il consiglio sul libro è se parti da zero parti digitale semplice con meno rotture di palle possibili nel momento in cui hai una community valuti perché l'editore tradizionale a quel punto ti pubblica perché sa che tanto il lavoro lo fai tu scrivi il libro tu lo promuovi tu e loro stampano fanno la parte logistica tenendosi la gran parte del margine quindi sono più che disposti a pubblicare il tuo libro se vuoi fare un'operazione di marketing lo fai con lo grande editore se vuoi guadagnare due lire o avere una tua indipendenza provi la strada di Amazon o strade alternative che prima o poi insomma verranno fuori sempre di più questa è la mia opinione Samuele forse eri tu ciao zio Monti volevo chiederti un consiglio eri tu su Libresia Romina ciao Monti sono Romina anche io come tanti ho un'idea per una app la mia secondo me è bellissima ovviamente ma non essendo del settore ho bisogno di un'azienda tutto tondo che la sviluppi si occupi del marketing del lancio e mi tuteli con un contratto di riservetessa e non concorrenza anche se a quanto leggo dagli articoli che leggo pare non servono a nulla quindi come funziona puoi parlare di questo argomento guarda io non sono un fan di tutte le parti legate alla NDA non disclosure agreement non concorrenza eccetera perché poi nei fatti le vedo molto difficili ti dirò di più se uno viene da me con un'idea o con un progetto e dice guarda vogliamo presentarti questo progetto però ci devi firmare un NDA la mia risposta è ti ringrazio a posto così preferisco non sapere niente ma mi crei più problemi se devo firmare un NDA perché perché domattina mi sveglio e ho un'idea simile alla tua e la voglio lanciare a quel punto tu mi vieni a fare cause e dici ah no perché io ti avevo presentato ma hai copiato l'idea non ne voglio sapere niente quindi se vuoi giocare sul mercato la mia opinione è giocare sul mercato in base a chi è più bravo poi chiaramente hai dei settori che si difendono a forza di brevetti riservatezza start up che partono in modo super stealth cosiddetto nascoste non si sa niente cioè ognuno gioca come preferisce la partita lo puoi fare anche però nella staggata maggioranza dei casi quando lanci un prodotto digitale alla fine dei conti la tua idea bene ce l'hai avuta tu ce l'ho avuta io ce l'hanno mille altre persone vince chi la esegue meglio se io la eseguo meglio di te a quel punto meglio perché ti ho fatto anche risparmiare tempo se no avresti portato avanti l'idea e poi saresti uscita sul mercato io ti avrei spazzato via uguale quindi non mi faccio mai menate da questo punto di vista e cerco di eseguire il più rapidamente possibile quell'attività e trovare i partner giusti ecco tutto qua Alessandro ciao Marco sono un ex calciatore professionista e voglio chiederti un consiglio ho giocato per più di dieci anni tra serie A e serie B ora mi sono appena laureato in ingegneria gestionale perché ho smesso l'anno scorso per via di un brutto infortunio vorrei intraprendere una nuova avventura nel mondo del business come faccio a organizzare bene le idee e i miei obiettivi per quello che voglio fare in questo mondo e soprattutto il pregiudizio rispetto a quello che facevo prima sarà un'arma o una debolezza nei miei confronti grazie e complimenti per tutto grazie Alessandro complimenti a te per i risultati sportivi parto dalla seconda che hai detto il pregiudizio nei tuoi confronti ce l'avranno persone ignoranti mentre invece le persone intelligenti valuteranno le tue capacità sportive come un potenziale punto di forza e un segnale delle tue potenziali capacità ad oggi le tue capacità le hai dimostrate nel mondo sportivo ti faccio un esempio per due volte nella mia vita io ho avuto due datori di lavoro entrambi ex giocatori di ping pong che mi hanno dato la possibilità di lavorare con loro basandosi sulla fiducia non sulle mie competenze però hanno fatto una valutazione pensando ok questo qua era stato tra i primi cinque giocatori di tagli ping pong sport che loro conoscevano bene e apprezzavano quindi se quella capacità di dedizione determinazione allenamento ossessione questo tizio qua la sposta nelle attività per la mia azienda probabilmente qualche cosa tira fuori non avrà basi di partenza ma formandolo è una persona che potenzialmente valida quindi questa è la valutazione che ha fatta e secondo me hanno avuto ragione questa è la mia opinione è come dire se tu hai Federica Pellegrini o non so Ronaldo Ronaldo smetti di giocare a calcio e dice ma adesso mi metto a fare un'altra roba con lo stesso approccio magari non diventa fenomeno come nel calcio perché non è facile essere i fenomeni in tutto però senz'altro qualche cosa fa Nadal con la sua capacità di lottare su ogni punto e cioè nel momento in cui non gioca più a tennis è uno che con quel carattere lì va lontano ecco gli darei molta fiducia investirei su uno così a occhi chiusi ecco quindi questo è il primo aspetto il secondo aspetto è come si fa a partire la formula è sempre semplice per me verticale di riferimento qual è la nicchia parlavamo prima della nicchia della barca della barca vela qual è la nicchia qual è il problema della nicchia qual è la soluzione per la nicchia e tu sei il portatore di questa soluzione barca vela qual è un problema che il boma quando fai la virata ti inizia a muoversi di brutto e piglia le persone in testa se sei in piedi soluzione casco anti antiboma che si infila nella randa non lo so capito a quel punto quella è la soluzione però parti così e cerchi di costruire la tua credibilità un passo alla volta per per cominciare a lavorare in un settore che ti interessa anche fare esperienza cominciare a fare esperienza in un campo che ti possa interessare e inizia a farti le ossa ecco è un po' come ripartire da dalla serie C o non so la serie D non so quella sia la serie più bassa nel calcio parti dai dilettanti e inizi a farti le ossa e ti alleni impari cominci a capire come si muove tutto questo nuovo mondo del business e inizi a capire anche se vuoi fare una roba tua se vuoi lavorare per qualcuno e quindi questo è un modo di capirlo però la mentalità sportiva alla fine paga a me ha aiutato tantissimo in generale l'idea che ti metti sul pezzo e ci si fa il mazzo ma con intelligenza qua ecco non è solamente il lavorare duro che sai lavorare duro è anche una roba che ci hanno inculcato ma ma non è che nel lavoro vince chi lavora più duro nel lavoro vince no chi è anche più intelligente fa delle scelte più intelligenti prende delle decisioni migliori ha una migliore intuizione sono tanti elementi no se no basterebbe lavorare duro ed è fatta no se tu fai il cameriere lavori durissimo però porti a casa due spiccioli quindi non è solo lavorare duro però la mentalità dello sportivo secondo me è una mentalità vincente in generale Tiziano ciao Monti volevo chiederti con che frequenza secondo te i creatori di contenuti dovrebbero far uscire i loro video grazie ciao ok Tiziano chiudiamo con questa io sono il portatore di questa causa che ho definito incessantismo sono sempre agnostico rispetto a qualunque teoria e sono pronto a rivederla e a cambiare idea da un secondo all'altro se uno mi dimostra che esiste una strada migliore ad oggi non ho ancora trovato una strada migliore di una presenza costante sui social vince chi ha una presenza costante prendi piattaforme tipo TikTok Instagram Facebook chi è che vince ad oggi vince nel senso si stacca rispetto a tutti gli altri in un qualunque settore vince o chi ha una presenza costante eppur stando in un settore che magari è un settore che non è tra i più esaltanti ugualmente riesce producendo tanti contenuti a differenziarsi dagli altri oppure vince chi ha una capacità iper creativa o iper di intrattenimento o iper qualche cosa un grande talento il Will Smith di turno se non fosse Will Smith che chiaramente si porta una conoscenza una base gigantesca di utenza se però non fosse così ugualmente uno così verrebbe fuori perché c'ha il quiz c'ha quel qualcosa in più ora siccome io parto dal presupposto che non ho un qualcosa in più devo lavorare come un mediano visto che parlavamo prima con Alessandro e da mediano lavoro sulla quantità sulla quantità ho il controllo sulla qualità non ce l'ho sulla quantità posso decidere che ogni giorno butto su un video la qualità non posso decidere se quel video a te piaccia oppure no per cui i social sono questo mix di recente ho fatto questa guida su competenze.online sul produrre video come produrre video per i social e una slide magari la recupero e carico poi anche il video dell'introduzione si basa su questo concetto che i social sono l'arte della creatività e la scienza della quantità e la quantità ricordiamoci ha un impatto qualitativo sul contesto che è importante da considerare è diverso se io metto un post alla settimana o sette post al giorno ho una presenza totalmente diversa e una percezione totalmente diversa l'altro vantaggio che ti dà la quantità è che buttando fuori tanta roba diventi anche più bravo immancabilmente perché fai più pratica t'alleni di più fai più pratica i tuoi contenuti migliorano più velocemente hai delle reazioni delle persone anche più di frequente puoi iterare più velocemente questo ciclo produttivo e a quel punto è più veloce capire se funziona o non funziona magari non funziona a fare contenuti per cui la mia presenza è costante e incessantista askmonti.it marcomontemaglio.it www.competenze.online se volete dare un'occhiata ci vediamo alla prossima puntata che sarà la numero 5 buona serata buona giornata buon tutto